Continuando ad esplorare questo mondo si vedono delle cose in lontananza Ad esempio questa cesta qui vicino E... oh ho trovato una staffa che mi teletrasporta E lì che cosa c'è? Oh mio dio no non voglio più vedere basta ho già visto troppo E qui sembra esserci ma what the f... Che cavolo è questa cosa? È tipo una ferrovia mi sembra Con delle cose rosse Vabbè quelle cose tipo il ketchup ok E dei blocchi rossi perché però... Ma cosa sono cioè? Dove sono? Sono finito sotto erano degli ascensori incognito Ho capito tutto Allora praticamente qua siamo in un posto dove in realtà I miei occhi non vedono niente a parte pietra e basta E però vedono solo questa cosa Il che è abbastanza... Ah no 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 brutto 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 Che cos'è sta roba via via prima che mi ammazzino ok ciao Demoni... Ok no 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 devo uscirne immediatamente Non è bello questo posto e questo posto è orribile Questo posto è veramente brutto Questo posto è la cosa più brutta che io abbia mai visto E non voglio più vederlo Così Vai Perfetto Ok sì 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 sono stato trasportato Vedete questa staffa me l'hanno dato secondo me apposta Allora qui come che continua? Perché ora sono curioso di esplorare questi posti Per trovare i misteri che ci sono qui dentro Allora ci sono delle ceste e un letto con dei diamanti che non li rifiutiamo Però vabbè questa armatura forse sarebbe meglio rifarsela perché non è molto potente Però qua sembra esserci una chiave oltre che altri corpi che non voglio ben dire purtroppo Allora ancient key praticamente questa è la chiave antica si tradurrebbe il che è abbastanza inquietante come cosa Io ora però ho paura di vedere l'ultima parte perché tecnicamente con questa chiave potrei aprire un'altra stanza Esatto Io ora questa stanza non vorrei dire però ho paura che sia... Ah ecco ecco questo è un demone è uno di quei demoni di cui stavano parlando E fa pure bello che da tanto danno Tanto danno fa Oh è rispawnato questi cosi purtroppo rispawnano E mi sta per uccidere raga mi sta per uccidere se non... Ok facciamo così ok perfetto Mangia la mela d'oro per carità divina Mangia 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 Oh ehi che fai che fai stupido Non sta mangiando Non sta mangiando Ma è stupido raga Allora qua c'è un elmetto che ho visto che si chiama elmetto demonizzato E qua c'è scritto salta ora Ok non me lo faccio ripetere due volte Uccidi tutti i demoni Per favore fallo Tu sei la nostra ultima opportunità La nostra ultima chance di salvare questo mondo Stanno parlando di quei demoni Quindi questo mondo è infestato da questi demoni E io questo elmetto che ho trovato L'elmetto... Che cosa fa? Boh tecnica... Forse mi protegge dai demoni